A Roseto un grandissimo evento di valore faunistico ma anche umano perché questo tipo di avvenimento è tipico della Libia, non dell'Italia e tantomeno di dove ci troviamo, dell'Adriatico. Sindaco, oggi a Roseto viene liberata una tartaruga in mare, tartaruga che ha depositato qui le uova. Sono nati queste testuggini ed è un fatto straordinario, si può vedere anche dalla presenza di pubblico perché si è increduli. Cosa provo in questo giorno? Veramente sì, come ha detto lei è un evento eccezionale per la nostra città per queste latitudini perché mi dicono scientificamente che è un evento molto raro, anzi pare che non si ricordi addirittura nel Medio Adriatico una cosa del genere. La nostra città è un motivo sicuramente di orgoglio, di prestigio e questo sta a dimostrare anche l'attenzione che probabilmente da queste parti esiste ancora per il mare, per tutto quello che è il sistema marino. Ci sono tantissime persone anche esperti, qual è davvero il valore di questa giornata e di questo avvenimento? Io credo che sia intanto un evento eccezionale perché nell'Adriatico non c'era mai stata una cosa del genere, quindi questo di per sé è un fatto straordinario che ci induce a dirigere anche i nostri studi, le nostre ricerche, i nostri collaboratori per poter capire meglio di cosa si è trattato e soprattutto fare in modo che questi episodi si ripetano sempre più speso sulle nostre coste, quindi questa è una cosa importante. L'altra cosa ovviamente è che oggi è una giornata di grande festa, io credo che testimoni una grande sensibilità sotto il profilo ambientale, non c'è solo curiosità, ma c'è proprio la sensibilità dei cittadini verso questo tema e il fatto che la protezione della natura può essere un elemento straordinario per il futuro di ciascuno di noi. C'è grande attenzione e quando ha scoperto le tartarughe l'ha fatto un po' anche con la fatica di chi vuole tenere protette delle cose davvero speciali, c'è moltissima gente, però rimane questo grande amore per gli animali e per questa unicità di questo fenomeno che è successo. Ci sono stati dei fattori straordinari e casuali che hanno fatto deporre qui le uova, perciò questo è un caso che in qualche modo fa pensare, cerchiamo di spiegare come è avvenuto tutto quanto. La deposizione di una caretta caretta su una costa come questa è un evento assolutamente atipico e tra l'altro l'eccezionalità dell'evento sta anche nel fatto che non c'è memoria di altre deposizioni a queste latitudini in Adriatico, quindi diciamo che è la prima. È chiaro che il sito non è sicuramente il più adatto, c'è un forte inquinamento luminoso per cui le tartarughe non prendono facilmente la via del mare, c'è stato un problema di occupazione di questo tratto di costa da parte dei bagnanti, da parte dei mezzi meccanici per la pulizia, quindi diciamo che è un nido che ha voluto assolutamente che le sue uova si schiudessero. Questo episodio può fare pensare in qualche modo che ce ne sarà un altro? Le tartarughe marine normalmente vanno a deporre nel luogo dove sono nate, queste tartarughe per quanto aiutate nella ripresa del mare comunque hanno memorizzato il sito, le abbiamo fatte soggiornare parecchio su questo sito per cui quando saranno mature sessualmente dovrebbero tornare su questo sito, così come è probabile che anche chi ha fatto la deposizione questa volta, la caretta che ha deposto questa volta, tra qualche anno possa tornare a deporre nello stesso posto.